Eccoci a occhio, una savana, questo qui è il tipico, ma cazzo è che si chiama? Dependance, la Dependance, eh? La Dependance, con i tre, tre muretti che sostengono tutto il tetto, con il suo bel camino là, però bisogna venirlo a vedere d'inverno perché adesso non vedi un cazzo. Ve lo faccio vedere da vicino, eccolo qua, caratteristico, ormai è il drenato, distrutto. Questo qui era bestiale, bellissimo, tutto giù, ma che roba, madonna mia, cioè vedere tutta sta roba andata, ma che roba, che distruzione, era di una bellezza, eh?